Un nemico armato di fucile d'assalto. Contatto leggero. Due marcati. Pronto. Quando vuoi. Alto via. Marco il numero tre. Aspetto il tuo colpo. Alto via. È a terra. Bene. Eliminato. Incazzare! Si stanno riparando! In movimento! A ore 12. Vestaglio a terra. Li ho bloccati. Ricarico. Sono sul balcone. È un cecchino. Sono bloccato. Sul balcone. Uccidete il cecchino. Prezzo. Sparate al cecchino. Ricevuto. È a terra. Ricevuto. Colpiamoli forte. Sono allo sfondo. Davanti a noi. È un fuciliere. Mi vuoi. Il cecchino. Vestaglio a terra. Ricevuto. Cecchino. Guardate al cecchino. Ricevuto. È fatta. Abbattuto. Davanti. Ha un fucile d'attanto. Uno giù. Contatto. Davanti a noi. Abbattuto. Prendetelo. Ricevuto. Ricevuto. Fuoco di soppressione. Scopritemi. Mi muovo. A ore 12. Ok. È fatta. Grazie a tutti. Sì, sono svegliati! Mi muovo! Attenti, attenti! Merda, ce l'ho bloccato! Al riparo! Bersaglio a terra! Prendete quello con lo shotgun! Pronto! Nemico a ore tre! Soppressione! Bersaglio a terra! Mi sta riparando! Ok! Sinistra, la occhia a sinistra! Flash, occhio! Ci siamo ascoltati un po'! Abbattuto! Da uno shotgun! Fatalo fuori! Di nuovo! Occhio a sinistra! Avanti così! In movimento! È a terra! Prendete quello! Rissevuto! Nemico a ore tre! Overlord, qui siamo nei guai! Quanto ci vuole per gli elicotteri? Sono con un minuto di altri, rinistete! Abbattuto! No problem! Ce la facciamo! Nemico a ore non... Abbattuto! Vanno a riparo! Davanti! Lid verso un riparo! Bersaglio a terra! Li abbiamo ridotti male! Vanno verso destra! A ore 12! Mi trovi a terra! Prendetelo! Sospensione! Anche per te ricontri! Sono attacchi e ingancerò! Vanno rivolto! Ok, io overlord! Bocchi con me! Andiamo! Mi tra gli aprisciano a terra! La! A ore 12! Come credi! Continuate a spingere! Contatto davanti a noi! Devo ricaricare! Ha fazzuto! Ok, ci siamo! Ok, ci siamo! Ok, ci siamo! Ascoltate, Ghost! Una volta in aria, non so cosa dovremo affrontare! Incredibile! Per ora abbiamo avuto solo ordini chiarissimi! 30, ti piacerà! Tanti bersagli e nessuna esitazione! No, beh... Bene, allora! Concentrati! Non siamo ancora in salvo! Testa sulle spalle e scegliete i bersagli giusti! E la nave? Se non ci occupiamo prima dei rinforzi, potrebbe non servire più! Non erano quelli i rinforzi! Vedremo! Con me! Proteggiamo l'atterraccio! Overlord! Hunter all'heliporto! Ricevuto Hunter! Passaggio in arrivo! A porto, Ghost! Due a due! Andiamo! Agganciatevi! Andiamo! Pronto! Qual è lo stato della seconda nave? I nostri maglietti sono riusciti a bloccare il sistema di controllo, quindi assicuro. Ma il nemico viene verso la nave in forze. Possono ancora fare danni. Ci muoviamo! Muoco ragazzi! Vediamo cosa riusciamo a fare dall'alto! Convoglio il nemico! Non capiranno che non siamo russi. Pieghiamoglielo! Davanti! Attenti! L'atterracci! Passaggio a terra! Elicottero nemico in arrivo! Cosa? Santi? Sul compoglio! UFB per chiama l'elicottero! Sì, che vuto! Tertaglia in fuga! D'accordo, Terti. Questa volta è il permesso di sfogarti. Roger! Abbattuto! Sembra una base! Fuoco! Attenti, leggerati! A piscine viso! A sinistra! Capo libero! Capo libero! Vistori termici! Attenti, leggerati! Elicottero nemico! Vistori e io, copriamo la nave! Voi sentiate per line! D'accordo! Hunter, attività alla base della nave! Sembra piacciono delle cariche! Ricevuto! Ci muoviamo! Eliminiamoli prima che piacciono quelle cariche! Bello! Overlord, qui Hunter! Nave sicura! Qui abbiamo finito! Qui Overlord! Bel lavoro, Hunter! Li tiriamo fuori!